La parola finalmente torna nuovamente al campo domani alle 17.30 al Riga Monticeppi di Lecco e in programma la finale di ritorno tra il Lecco e il Foggia. Si ripartirà dal 2-1 visibilmente viziato dalle ingiustizie perpetrate e danni dei rossoneri che tuttavia non si arrendono e sono convinti di avere nelle corde la possibilità di vincere e portarsi la Serie B a casa. Ci crede il Foggia e con esso crede all'ennesima rimonta, un'intera città che per scaramanzia non si sbilancia ma che non aspetta altro per liberare eventualmente tutta la propria gioia. Oltre 800 i tifosi al seguito dei rossoneri, tanti sono i biglietti destinati ai sostenitori del Foggia che saranno sistemati nel settore ospiti, ma c'è anche qualche fortunato che è riuscito a reperire i biglietti in altri settori dello stadio. Ovviamente Foggiani, non residenti in Capitanata che hanno trascorso ore ed ore in fila davanti ai botteghini del piccolo impianto Lombardo. Stamane la comitiva rossonera è partita alla volta di Milano. Volo in partenza dal Ginolisa pochi minuti prima delle 12.30 come si vede dalle immagini. A bordo dell'aereo sono saliti anche dirigenti e ospiti del club. C'è tanta attesa e c'è soprattutto voglia di prendersi ciò che in fondo il Foggia merita. Per farlo la squadra di Dele Rossi dovrà vincere con due gol di scarto. Con uno allungherebbe la sfida ai supplementari. Calcio d'inizio alle 17.30 come detto arbitrerà Di Marco Di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Votta di Moliterno e Catallo di Frosinone. Quarto ufficiale Monaldi di Macerata. Al VAR invece opereranno Marini di Roma 1 e Longo di Paola. Siamo qui per te, devi vincere! Siamo qui per te, devi vincere! Siamo qui per te, devi vincere! Siamo qui per te, devi vincere!